ciao a tutti lo conoscete il dispositivo austrian alpin praticamente si tratta di un freno per le vie ferrate con cavo può essere utilizzato come lounge o appunto per riposo è leggero però non mi non mi convince troppo l'apertura non mi sembra troppo sicura adesso magari vado a testarlo così almeno vediamo un attimino ripeto allora l'aggancio non mi dà proprio sicurezza nel senso tende a sganciarsi e comunque bisogna attaccarlo nel verso giusto nel senso verso l'alto perché sennò fa l'opposto nel senso posso di frenare lui cade giù verso il basso quindi uno magari si trova in una situazione di emergenza in velocità perché deve fare fare la sosta così arriva con le braccia stanche anche qui secondo me è un po un pochino pericoloso e poi il punto l'apertura che troppo facile non è che sia proprio il massimo perché se si dovesse girare verso le rocce lui tende ad aprirsi quindi non è che sia proprio ecco qui è l'esempio praticamente lui si impatta tac tende a sganciarsi magari e quindi non mi piace tantissimo lo scorrimento è buono verso l'alto quello sì però io probabilmente farò il reso perché è un dispositivo che non mi fa sentire sicuro e niente spero che questo video possa essere utile a qualcuno vi auguro una buona visione